allora praticamente questo giorgio p è un deficiente e boomer che un mio fan gli ha risposto per le righe logicamente poi mi ci sono messo di mezzo anch'io e ho detto qualcosa anch'io ma parlando con boomer perché con giorgio p non ci parlo nemmeno questo fenomeno dice che invece che andare in clinica psichiatrica io ci doveva andare il giudice quindi sostiene che un giudice dovreste andare in clinica psichiatrica cosa che per carità potrebbe anche succedere nella vita ma il boomer gli dice appunto che io non l'ho colpito che chiunque si sarebbe difeso davanti a uno con un tubo di ferro e niente ringrazio boomer come sempre molto gentile faccio questo video perché ho intenzione di segnalare il commento di di questo fenomeno da baracone e sono le 3 35 sono ancora sveglio dormito dalle 9 a mezzanotte e mezza e adesso vedrei farmi un caffè di di alzarmi e buonanotte ragazzi se vi svegliate per vedere il video guardatelo pure domani beh se l'avete già visto buonanotte lo stesso buon 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 giorno un buon proseguimento